Oggi parliamo della parola epifania. Vediamo un pochettino di che cosa si tratta. In italiano grammaticalmente è un sostantivo femminile, ma il termine deriva dal greco, dal greco epifaneia, che vuol dire apparizione. A sua volta questo termine greco deriva dal verbo epifanein, che vuol dire apparire. Ma apparizione di che cosa? Nel mondo greco era l'apparizione, la manifestazione della divinità. La festa dell'Epifania si celebra il 6 gennaio e in ambito cattolico è legato a un evento importante, cioè la visita di tre re Maggi a Gesù in Betlemme. Mi immagino sono questi grandi sapienti dell'Oriente che avevano studiato tra le altre cose anche di astronomia e seguono appunto questa stella che li porta alla grotta, alla capanna dove è nato Gesù, a Betlemme. E cosa vuol dire? Perché è importante questo passaggio per i cattolici? Perché di fatto tre sapienti riconoscono la manifestazione della divinità in Gesù, cioè riconoscono Gesù non semplicemente come un bambino, ma anche come un Dio. Ecco perché il termine greco epifania, Epifania, praticamente si aggrega, si aggancia a questo momento, cioè quello del diciamo scelto come 6 gennaio, il momento della visita di questi tre grandi sapienti, di questi re Maggi a Gesù, perché in quel momento appunto Gesù appare loro come appunto Dio. E questo è un passaggio molto importante. Per noi l'Epifania è anche il giorno in cui arriva la Befana, che riempie le calze dei bambini, messe ai piedi del letto oppure in qualche altra parte della casa. E da dove deriva il termine Befana? Beh, il termine Befana deriva sempre da Epifania, ma è una volgarizzazione del termine, infatti Pifaneia, ecco quindi il termine letto senza la E o l'epsilon iniziale, di fatto è stato corrotto nel linguaggio popolare e quel Pifaneia è diventata Befana, Befaneia, Befana. E quindi si è associato a una festa importante con la festazione di Dio, una festa religiosa, una festa legata ai bambini. La Befana in tante parti del mondo è lei che porta non solo i cioccolatini, ma lei che porta i regali, quindi è un po' come spostare la festa del Natale che diventa e rimane una festa specificatamente religiosa e portare invece il momento goliardico, divertente, piacevole, cioè del portare i regali alla 6 gennaio. Anche perché i Maggi portano in dono qualcosa, ecco perché era necessario in qualche modo che fosse la Befana la vera deputata a portare i regali e non Babbo Natale. Ma sappiamo come le cose nell'Occidente, cosiddetto civilizzato e diciamo perfettamente calato in un clima commerciale, ogni occasione è buona per portare un regalo. Legato al termine Epifania ci sono anche alcuni detti, il più famoso Epifania, tutte le feste si porta via, in effetti è il momento finale di questo percorso a cavallo tra due anni solari che comincia con il Natale, continua con la vigilia di Capodanno e poi Capodanno vero e proprio e poi con il 6 gennaio, insomma questo momento finale. Il termine in effetti è un termine che non è soltanto legato al mondo religioso, ma anche al mondo diciamo non religioso della poesia. D'Annunzio per esempio parla di Epifania dello Spirito in una sua famosa composizione come manifestazione appunto di questo spirito, ma sono famose le Epifanie, le manifestazioni appunto delle donne in tanta letteratura di primo del Novecento.